Relativamente al rapporto di Graniti Fiandre con l'architettura, fa parte del DNA dell'azienda, il marchio dell'azienda è Fiandre Architettura Surface, quindi noi producendo lastre di grandi formati ci occupiamo di progetti come rivestimenti di facciate esterne, pavimentazioni di grandi complessi architettonici, quindi quello che l'architettura ha dato all'azienda è la sua innata capacità di continuare a sviluppare nuovi materiali, nuove tecnologie. Abbiamo una società di ingegneria che è stata di supporto ai premiati, in quanto riguarda il rapporto con la committenza, sottolineo che in questo caso è stato un rapporto improntato nella fiducia, nell'entusiasmo. Vi ringrazio. Grazie.